L'esercizio numero 33 di pagina 238. In biologia si studia che la reazione netta della fotosintesi può essere così scritta. 6 moli di CO2 reagiscono con 6 moli di acqua e producono 1 mole di C6H12O6, cioè di glucosio, e 6 moli di ossigeno. Sulla base di questa reazione dobbiamo calcolare i grammi di ossigeno prodotti. Dobbiamo calcolare i grammi di ossigeno e quindi X grammi di ossigeno, che produce una pianta che ha sintetizzato 10 grammi di glucosio. Quindi i grammi di riferimento di glucosio sono 10,0 grammi di glucosio. E bisogna calcolare anche quale volume occupano a 20 C se è un'atmosfera. Quindi il volume di questi X grammi, il volume in litri di questi grammi di ossigeno. Questi sono i dati da calcolare. Ora dalla reazione si vede che nel momento in cui una mole di glucosio viene prodotto, vengono prodotte 6 moli di ossigeno. Quindi dobbiamo cercare di calcolare il numero di moli di glucosio. dobbiamo sapere quante moli di... no, non grammi, moli. Il numero di moli di glucosio, CLU. Ora, il numero di moli di qualsiasi sostanza è data dalla massa in grammi diviso la massa molare. Per il glucosio la massa in grammi è 10,0. La massa molare la calcoliamo con il calcolatore. Allora, il calcolatore della massa molare C6H12O6, ecco che una mole ha la massa di 180,156 diviso 180,156. Questi sono grammi mol e questi sono 10,0 grammi uguali. Quindi 10 diviso 180,156. E si tratta di 0,0,56. Teniamoci due cifre. 0,056 sono le molle di ossigeno. Oh, ho sbagliato. Le molle di glucosio, GLU. Numero di moli di GLU. Queste qui. Le scrivo qui sotto, 0,056. Mol GLU. Ora, siamo in condizioni di calcolare il numero di moli di ossigeno. Lo scrivo in verde, numero di moli di ossigeno. Perché il numero di moli di ossigeno è dato da 6 volte il numero di moli di glucosio. cioè 6 per 0,056 uguale, per 6 uguale 0,33. 0,33 mol. Glucosio. Quindi il numero di moli di... Oh, mannaccia la miseria. No, non di glucosio. Di ossigeno. Adesso ci dobbiamo preoccupare di calcolare il volume occupato, il volume in litri occupato da queste moli di ossigeno. Questo non ne possiamo fare andando a ricordarci le proprietà dei gas. E quindi andiamo al capitolo 6. E cioè ci ricordiamo che esiste il volume molare. Il volume occupato da una mole, da una mole di gas, è 22,4 litri. Però ha la temperatura di 0 Celsius e di un'atmosfera di pressione. E in effetti è un po' la nostra situazione. Per quanto riguarda la pressione, è un'atmosfera. Mentre la temperatura è di 20 Celsius, non di 0 Celsius. Però intanto cominciamo a muoverci in questa direzione. E cioè sappiamo che una mol di qualsiasi gas, e quindi anche del nostro gas, occupa 22,4 litri. Ma noi abbiamo 0,33 moli. Quale sarà il volume in litri? Dobbiamo moltiplicare per 22,4 e dividere per 1. E in realtà sono 7,5 litri. Il volume in litri è uguale a 7,5 litri. L'unico problema è la temperatura. Perché siamo a 20 Celsius? Anzi no. Questo calcolo che noi abbiamo fatto è riferito a 0 Celsius. A 0 gradi Celsius. Ora noi dobbiamo invece rapportarlo a 20 gradi Celsius. Come facciamo? Andiamo a usare la legge di Charles, che è a pagina 86. La legge di Charles dice che il volume aumenta con la temperatura in modo lineare. Usando la temperatura in gradi Kelvin, però. E quindi se abbiamo il volume 1 alla temperatura T1, sarà uguale al volume 2 al rapporto volume 2 fratto temperature 2. Perché il rapporto VT è costante. Quindi sostituiamo il valore della costante. E V1 diviso T1 è uguale a V2 fra diviso T2. Però, ripetiamo, in Kelvin. Allora trasformiamo il Celsius in Kelvin e dobbiamo sommare 273,16 a 0. Quindi equivalgono a 273,16 gradi Kelvin. Gradi Kelvin. Senza cerchietto. K. E questa è la nostra temperatura. Quindi la formula che dobbiamo usare è V1 fratto T1 uguale a V2 fratto T2. Ora, T1 è 273,16. V1 l'abbiamo calcolato ed è 7,5 litri. V2 è quello che vogliamo calcolare ed è il nostro volume in litri. V2 diviso T2. E T2 è 20 gradi Celsius. Che in Kelvin, sommando 273, sono 293,16 Kelvin. Quindi qui sotto al denominatore 293,16 che sono i Kelvin. Calcoliamo questo valore di V2 che corrisponde al nostro volume in litri di O2 a 20 Celsius. Si tratterà di fare quindi questo 7,5 moltiplicato 293,16 diviso 273,16. Si tratterà di 8,0 litri. 8,0 litri. Ed ecco quindi il nostro valore ricercato di 8,0 litri. I nostri dati calcolati sono la massa in grammi di ossigeno. La massa in grammi di ossigeno era... No, non li ho calcolati. Non li ho ancora calcolati i grammi di ossigeno. Perché i grammi di ossigeno, mettiamoci in rosso, i grammi di ossigeno sono dati dal numero di moli di ossigeno moltiplicato la massa molare di ossigeno. E il numero di moli di ossigeno è 0,33. Dobbiamo andare in verde. Anzi no, restiamo in rosso. X grammi di ossigeno è dato dal numero di moli di ossigeno moltiplicato la massa molare. E quindi 0,33 moltiplicato. Prendiamo il calcolatore dell'ossigeno O2 ed è 31,998, approssimiamo a 32. E quindi si tratta di 0,33 per 32. 33 sono moli, 32 sono grammi mole e il risultato sono grammi 0,33 per 32 uguale a 10,56. Quindi 10,6 uguale a 10,6 sono i grammi, la massa in grammi di ossigeno. Quindi andiamo a scriverlo qui la massa in grammi di ossigeno è 10,6 Quindi i dati che abbiamo calcolato sono la massa in grammi, grammi di ossigeno, il volume in litri che ci veniva richiesto, volume occupato in litri.